Sì, sì. Infatti cercavo un po' da che potessi proseguire, perché questa è sempre un'esperienza di rilassamento, eh? Eh, sono un po' di... Sì, non mi chiedo! Io ho con una mia amica, se non si può, non si può, non si può, non si può. E quindi... Da che il primo è un po' di lei? È? Sì. 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 Sì, 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 sì. Se vuoi inviare un mè fisso. Di più, ok? Grazie a tutti.